Siete uno dei 26 imprenditori più affascinanti del mondo. Siete Dr. Rouse. Possedete alcune delle più belle auto esistenti. Le vostre predizioni si sono avverate. Ma voi siete sempre ricordati per il vostro più grande. Voi siete attraenti. YouTube Poop. Where there's smoke, they pinch back. Ne buggé plus, baron. La què? Oh, le petit tube de rouge à lèvre. Oh, le voilà. Oh, bon. Qu'est-ce que fait, Bernard? Bah, je me... je me rende l'autre, mon... mon cop. Ma dottore, cosa fa? Sono perversi. Mirbantello. Vada via! No! Vada in ambulatorio! No! Die, bitch. È arrivata questa per te. Questa è... Vada! Die, dr. game. The Koopalings and I have taken over the Mushroom Kingdom. The princess is now a permanent guest at one of my seven Koopa Hotels. I dare you to find her if you can't. No. Oh, ma guarda un po'. Oh Grazie per la visione!